la cooperazione internazionale investe per lo sviluppo sostenibile e contro lo spreco alimentare la cooperazione internazionale investe per la giustizia e diritti umani per il diritto all'istruzione dei minori e per garantire a tutti acqua ed energia investe per sostenere il ruolo delle donne e per valorizzare identità e culture la cooperazione internazionale il miglior investimento per il futuro la cooperazione internazionale